Io sono convinto che la storia d'Italia parta da qui, almeno per una buonissima parte, quindi io sono felicissimo di stare a Firenze, di essere stato destinato a Firenze e spero di dare il meglio. Il sistema toscano, così come è integrato, ho visto le dichiarazioni del Presidente della Regione che ringrazio, è sicuramente un sistema efficace, purché questa integrazione continui, per questa integrazione ci sia, purché i sindaci collaborino in questo procedimento. Non credo che si possa arrivare a provvedimenti ablativi o di requisizione, confido nella intelligenza, nella collaborazione dei sindaci per quanto riguarda il supporto allo sforzo comune. Per quanto riguarda il degrado, nella linea che ha già ben scritto e ha già ben delineato il mio predecessore, continueremo a intensificare in tutti i modi l'attività di prevenzione. Poi condivido l'impostazione del sindaco Nardella per quanto riguarda ipotesi di delocalizzazione delle zone dove si può fare la movida, è un'idea molto intelligente. Non mi risulta che Firenze sia direttamente nel mirino del terrorismo, certamente saranno adottate come per tutte le altre città le misure necessarie.